Pronti, c'è l'ha... non ce l'ha un extended? no ok lì si è fermato quel tipo avrà una WM o qualcosa del genere là c'è un tipo us fall c'è un altro che sta arrivando dal gas quindi abbiamo quello con la WM messo là quello che è arrivato là il gas andiamo ad andare fra quello della WM e quello che gli sparava che sono qua questi eh attenzione perché qualche parte è buona ok dobbiamo andare esattamente là comunque è poco che abbiamo ragazzi scendi sfruttiamo ragazzi la discesa e andiamo qua sopra che conosco questo posto un po' Grazie per la visione 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 Absolute silence Grazie per la visione I'm okay E' qua I'm okay I'm okay Moving with emotion Following the light that sets me free I'm okay 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 I'm okay